Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Cesare Martignoni. In A1 code a tratti per il traffico intenso tra Calenzano e località Aglio in direzione Bologna. In Fipili viaggiando verso Livorno traffico rallentato tra Ponte della Est e il bivio di ramazione per Pisa. In A12 traffico rallentato per Lavori in direzione Sud tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo, mentre in direzione opposta nella stessa tratta si registrano 2 km di coda. Allerta gialla per temporali forti. Raccomandata la massima prudenza, le precipitazioni potranno verificarsi fino alle 20 di oggi. Via delle 5 vie a Firenze è stata chiusa al traffico ieri per un muro pericolante colpito da un forte nubifragio. Itinerari alternativi per collegare Galluzzo e Ponte a Ema. Usare la A1 o passare da Piazzale Michelangelo. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Altre info sui nostri canali social. Buon viaggio! Grazie a tutti!